Da Isabel nuovi arrivi a prezzi di grande convenienza. Fantastici leggings sportivi in tessuto tecnico contenitivo. Top sportivo in tessuto tecnico. Per la linea accessori letto, a casa come in hotel, da Isabel il topper di Bianca Luna. Top matrimoniale per materasso in tessuto martellato, dotato di quattro elastici per blocco su materasso agli angoli alto 7 cm. Inoltre per uomo, donna, bambino, calze, intimo, linea pigiami, vestaglie, camicie da notte con assortimento di taglie e garanzia del prodotto. Per le tue esigenze quotidiane Isabel di tutto di più per la gente. Isabel invia Postumio 2 Trani per info numero whatsapp 375 653 2113 telefono 0883 955 994.